... quel cane Siamo a fare l'ultimo giro, due centri per il Covid e sempre tre anni, cioè due urme. Si può funzionare per due mesi, siamo al traguardo, a tempo 44,897. Il partito è la batteria numero due. La fredda si è andata. L'ultimo giro. Perché c'è la batteria? Viene al momento la fredda numero 159. Siamo al traguardo. 43,617. 3,617. La Poliscorpina si è andata a coprire la gara in questo momento. La Poliscorpina si è andata a coprire la gara in questo momento. E' un grande amore. Il segno di Puglia è andata a passare. Questa è andata a passare e entra. L'ultima curva. Vediamo il quarto. 43,811. non mi riuscì a condurre la gara suona la campana dell'ultimo giro si è entrato troppo forte siamo al preguardo e il tempo è di 43.960 fatica la batteria dai Gabi 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 e si porta la testa spineata al luogo si porta a scuola traguardo 4 730 tempos com dai Gabi dai Gabi dai Gabi Grazie a tutti Quali sono i trecchi di riferimento della batteria? 45, 831